ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi per la saga del decluttering parleremo di fondotinta ebbene sì fondotinta ho un cassetto pieno di fondotinta ebbene sì devo declatterare qualcosa credo di sì volete sapere cosa declattero guardate il video e vedete no noi ci vediamo alla fine allora qui abbiamo i fondotinta questo è il cassettone per quanto riguarda i fondotinta abbiamo fondotinta di tutte le versioni possibili immaginabili e qui abbiamo alcuni fondotinta che sono nelle scatole sigillati e non utilizzati quindi adesso prenderò i fondotinta li metterò sul tavolo e decideremo insieme quale tenere quale regalare e quale cestinare direttamente allora qui abbiamo un tasto dolente che sono i fondotinta la maggior parte di questi fondotinta questi sono alcuni gli altri sono nel cassetto la maggior parte di questi fondotinta non sono stati aperti per fortuna ho capito in tempo quale utilizzo avrò per la mia makeup collection vi dico questo perché ho sprecato tantissimi fondotinta e sinceramente si vedo tanti fondotinta ma vedo anche i soldi spesi cercherò di limitare il mio sprecare tra virgolette queste queste cose perché cercherò di utilizzarle mano a mano e quindi li aprirò quando avrò la necessità di utilizzare questi prodotti questi come quelli che vedrete dopo allora per primo ho il lockhead di kat von d questo è un po sporco a me perché è stato contatto con altri fondotinta sala aperti questo è ancora chiuso perché l'avevo acquistato quando facevo ancora il mercato quindi considerate più di cinque sei anni fa e poi siccome l'ho trovato scontato adesso devo guardare perché ne dovrei avere un altro si eccolo qua aspettate un minuto ecco riesco ne avevo preso un altro perché le colorazioni scontate erano il light 48 neutral e il light 42 neutral questi sono ancora chiusi vi faccio vedere anche questo per essere precisi questi sono ancora chiusi e rimarranno così fin quando non li utilizzerò questi sono i prodotti vedete che uno è più scuro e l'altro più chiaro quindi quando li utilizzerò toglierò la scatola infatti su questo trovate la scatola su questo no perché all'inizio io buttavo le scato invece per capire se un prodotto è aperto o meno lo trovate con la scatola voglio fare adesso così per non diciamo buttare i prodotti però questi vengono messi in un lato del cassetto in fondo quindi non c'è il rischio che io per sbaglio li possa prendere quindi questi li tengo ovviamente tutte e due la stessa identica cosa lo troviamo con Kiko con l'osti in amalfi tutti parlavano bene di questo fondotinta e io l'ho voluto acquistare non l'ho aperto perché ho sbocciato ovviamente quello del negozio quando sono stata nel negozio ho sbocciato il prodotto mi è piaciuto anche questo è sporco però questo era sigillato mi è piaciuto diciamo il prodotto e quindi l'ho acquistato e ho detto quando mi servirà lo aprirò e quindi lo lascio confezionato quindi è qui confezionato la stessa identica cosa questo qui di mesauda questo è il radiant skin foundation è adatto a una pelle secca io l'ho preso nella colorazione ivory 302 l'ho provato al negozio e ovviamente è ancora chiuso sigillato prima finisco alcuni prodotti per le colorazioni se le volete io ve le posso anche scrivere però considerate che alcuni sono con sottotono neutro alcuni sono con sottotono giallo poi dipende come diciamo vi trovate voi sulla pelle certe volte le colorazioni sembrano molto diverse ma poi sulla pelle si fondono benissimo quindi io vi posso anche dire le colorazioni però sta a voi decidere poi altri prodotti che qui ho questo l'ho utilizzato questo l'ho utilizzato è quello di Kat Von D l'ho utilizzato per far diventare più chiaro un fondotinta devo utilizzarlo per essere sicura se mi piace o non mi piace perché non l'ho capito credetemi non l'ho capito quindi questo lo metterò nei forze e nei prodotti che devo provare assolutamente poi un prodotto che sto vedendo qui è il photo finish di Catrice questo io lo utilizzavo quando andavo al lavoro quindi un bel po' di tempo fa infatti la colorazione è leggermente scura vi posso dire che non fa puzza l'ho aperto l'altro giorno proprio per verificare se fa puzza o meno non fa assolutamente puzza fa lo stesso odore di rosa che mi dava fastidio prima ho cercato come vedete cioè non lo so se si vede qua ho cercato di utilizzarlo proprio perché quando acquisto un prodotto cerco di utilizzarlo finirlo eccetera eccetera ma questo odore di rosa mi dà fastidio proprio mi dà tanto fastidio quindi questo cercherò di regalarlo a mia sorella quindi lo utilizzerà sicuramente lei poi un altro prodotto questo qui è quello di Becca idem questo qui non è stato mai aperto come vedete ho acquistato un bel po' di fondotinta a bougie come dicono alcuni oppure a high hand oppure costosi come li volete chiamare li chiamate perché quando vedo degli sconti belli cicciottosi che diciamo posso soffrire utilizzo quei prodotti che di norma nella mia quotidianità non acquisterei in base al prezzo quindi questo è uno di Becca questo è acqua luminous perfect foundation di Becca quindi lo tengo un prodotto che a malincuore regalo è questo qui di Huda Beauty allora mi piace tantissimo come fondotinta ho cercato di utilizzarla tutta l'estate vedete quanto manca vedete questo l'ho utilizzato è così questo l'ho utilizzato tutta l'estate ma il colore è troppo troppo ma troppo scuro io non nemmeno in estate proprio fitta fitta riesco ad ottenere questa diciamo questa abbronzatura ho cercato di tenerlo proprio per provare questo prodotto utilizzandolo eccetera eccetera mi fa macchia perché ovviamente non è della mia colorazione mia sorella è molto più scura di me beata lei e quindi l'odore a lei se lei non lo vuole lo venderò se qualcuno anzi se qualcuno lo vuole lo posso anche vendere quindi le cose le trovate su Vinted poi altri prodotti questo è un fondotinta di Astra questo è Iconic Perfect Liquid Foundation per un effetto pelle nuda l'ho utilizzato solo una volta mi riservo di utilizzarlo altre volte perché non ci ho proprio preso bene con questo fondotinta voglio cercare di utilizzarlo perché tutti ne parlano bene quindi io perché devo essere negativo nei confronti di questo fondotinta quindi lo proverò questi sono quelli di Essence l'ho utilizzato tantissimo e questi qui li regalerò perché ho tutta la serie dei mini size quindi regalerò queste due proprio perché ho tutte quelle piccoline quindi se mi serve prendere il perfect questo instant perfect di Essence trovo le mini taglie quindi queste le regalo poi abbiamo Dior Backstage che è questo e poi ne dovrei avere un altro eccolo qui adesso non mi ricordo chi mi è stato regalato eccetera eccetera comunque ho questi due ho diverse colorazioni non so nemmeno quale sia la mia perfetta ovviamente li tengo perché poi li utilizzerò quando utilizzerò anche il primer quindi questo lo tengo poi un fondotinta che per me ha un piacere anche utilizzarlo è questo qui di Maybelline ed è qui a questa diciamo altezza l'ho utilizzato tantissimo l'ho utilizzato anche per cerimonie mi è piaciuto tantissimo e quindi lo tengo perché è ottimo come fondotinta un altro che ho utilizzato tantissimo è questo qui adesso perché era messo in discesa diciamo in verticale scusate perché messo in orizzontale si è tolto diciamo la stanghetta dove era messo come vedete vedete qui erano messe perché sono prodotti già utilizzati questo di MAC per me è il migliore in assoluto per quanto riguarda la mia tipologia di pelle questo è water white diciamo a base d'acqua infatti se io lo miscelo si sente l'acqua è ottimo io l'ho utilizzato per un matrimonio vi posso dire che quando sono arrivata a casa mi sono struccata avevo ancora il fondotinta intatto non avevo né pelle brutta mi piaceva tantissimo infatti sono rimasta molto contenta di questo prodotto un prodotto trovato nel calendario dell'avvento di Nivea una BB cream scurissima ma di uno scuro più scuro non si può ovviamente mettendo questa tipologia di prodotto in un calendario d'avvento devi azzeccare la colorazione questa è molto molto scura non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere cerco di prendere il prodotto ecco cioè è scurissima si brava stefania ne hai preso proprio ok vedete che è molto ma molto scura simile al prodotto di poco fa di Huda Beauty e quindi questo capite bene che è lo cestino questo invece è il Revolution Pro Foundation ed è un prodotto che viene mixato per aiutare altri fondotinta ad essere leggermente più chiari ma senza cambiare la tonalità del sottotono e quindi l'ho voluto prendere mi è stato consigliato da tanti makeup artist e quindi l'ho voluto prendere quindi lo metto di lato questo è il fondotinta di Colourpop l'ho sbocciato come si vede qui dal becuzio becuzio questo qui l'ho sbocciato perché volevo farvi il video sempre il solito che vi ho detto poco fa per quanto riguarda Colourpop c'è un pelo per quanto riguarda la linea di Colourpop volevo farvi un video intero quindi ho acquistato il fondotinta nella colorazione light 55 n spero che sia buono perché adesso non mi ricordo nemmeno che colore era bene Stefania brava complimenti poi andiamo con Astra ho questi tre ho questi tre questo ho cannato il colore tutti ne parlano benissimo ma io adesso avendo anche questo non so quale diciamo decidere l'ho preso nella colorazione 1 perché io di solito sono chiara proprio come un cadaverino ma questo lo posso utilizzare solo ed esclusivamente come correttore ma guardando vari video di makeup artist ho notato che mettono se diciamo io ho un fondotinta così scuro lo utilizzo nelle ombre diciamo scure del viso e poi passo queste nelle parti dove devo fare più luce quindi questo lo tengo ma c'è il fratello sigillato perché per sbaglio avevo preso due numeri 1 vedete qui c'è il numero ne avevo preso due quindi questo lo tengo e cerco di utilizzarlo se mi è possibile l'altro invece lo vendo o lo regalo per quanto riguarda invece questo è un soft matte foundation allora devo dire che anche se è un soft matte quindi un matte leggero mi è piaciuto sulla mia pelle devo essere sincera mi è piaciuto tantissimo la colorazione idem perché io sono molto ma molto chiara per quanto riguarda la pelle però alla fine ho sentito come se mi risultasse un bel po pesante sul viso sulla mia tipologia di viso l'ho utilizzato con una crema abbastanza ricca potrei anche utilizzarlo con una crema un po' più leggera oppure a base di gel però il colore non è buono per me quindi cercherò di regalarlo venderlo così da utilizzare anche altri prodotti quindi questo lo gestino uno che devo gestinare per forza perché questo è stato uno sbaglio mio è quello di rude cosmetics perché ho preso la colorazione vediamo se riesco a vederla questo è un fondotinta più correttore che di solito io con questi con doppia fase mi trovo malissimo comunque era un tan colorazione tan se io ve la faccio vedere dite ma dove hai gli occhi e che ne so io quando l'ho acquistato perché se non mi sbaglio il prodotto è molto denso come prodotto cioè come stesura e tutto vedete cioè dove andavo io con questo colore ditemelo comunque lo gestino poi andiamo avanti questo è un fondotinta di benefit nella colorazione 1 ed è questo con la pompetta questo è sigillato non è mai stato utilizzato infatti non è stato mai erogato il prodotto scusate non è stato mai erogato il prodotto infatti anche se togliete il tappo se non c'è l'erogazione non parte il pao io di questo avevo provato i campioncini mi è piaciuto e quindi quando c'è stato lo sconto non ho preso la full size ma ho cercato di prendere la mini size così lo proverò avrò i miei utilizzi e poi fortunatamente lo posso gestinare un prodotto che ho utilizzato tantissimo è questo qui di pupa questo non mi ricordo quanti ne ho acquistati oddio una marea credo questo l'avevo sbocciato anche sulla mano della mia migliore amica che gli è portata in ritazione sulla pelle lì è gonfiata non vi dico invece su di mera andava bene io avevo preso lo 0 20 ma adesso questo 0 20 è leggermente scuro per quanto mi riguarda però posso dire che mi trovavo bene veramente mi trovavo bene 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 con questo l'odore è sempre lo stesso mi trovavo bene con questo fondotinta devo essere sincera però come vedete la colorazione è leggermente scura perché era 0 20 io sono adesso molto più chiara prima facevo il mercato quindi prendevo il sole anche involontariamente prendevi il sole la mattina adesso è scuro per quanto riguarda la mia pelle quindi cercherò di regalarlo o venderlo ma non lo so sincero non lo so li metto qui ovviamente poi vedrò il da farsi poi abbiamo questo qui di kiko che nella della collezione wonder woman vi dico la pure sincera verità non mi ricordo se l'ho utilizzato sì l'ho utilizzato il beccuccio è sporco e vi dico la verità non mi ricordo proprio se mi è piaciuto non mi è piaciuto quindi lo metterò nei prodotti da utilizzare verificare se mi piacciono oppure no la stessa identica cosa no questo non è stato utilizzato aspettate devo miscelare perché non è stato utilizzato no quello di nilufor non è stato utilizzato quindi era quello di walcon che è stato utilizzato sì comunque quello di nilufor non è stato utilizzato come il primer quindi poi le aprirò assieme anche se questi prodotti è sicuro al 100% che non ve li farò vedere se faccio un make up ovviamente su youtube io ve lo spiego perché vi spiego questa cosa perché io posso capire che wonder woman questo di nilufor è normale che non ci sono questi prodotti perché sono in edizione limitata vi posso far vedere un maybelline o vi posso far vedere un astra è normale che non vi faccio vedere un kiko in edizione limitata capite bene cioè fino a qui ci arriviamo tutti no non c'è bisogno che do una spiegazione però ve la do lo stesso quindi questi li tengo li utilizzerò in privato questo è un fondotinta di nabla il primo che ho preso questo l'ho utilizzato in estate mi riservo di utilizzarlo per la prossima primavera estate e cercherò di finirlo è qui vedete non so se c'è se vedete il segno che è qui 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 vedete qui il segno qui qui quindi è qui devo dire che l'ho utilizzato con il pennello due fibre e mi è piaciuto infatti questo lo tengo volentieri altri fondotinta e questi già vi dico che mi sono piaciuti e li ho utilizzati un bel po' sono stati questi qui di bourgeois questi li posseggono nelle due colorazioni 51 e 52 questa è la 52 e questa è la 51 perché le tonalità sono un po' simili ma se vedete proprio a un mezzo tono in più e mezzo tono in meno dipende come stendete i panni fuori quindi siete leggermente più abbranzato leggermente meno abbranzato quindi li tengo tutti e due e li voglio utilizzare stessa identica cosa il L'Oreal Accord Perfaire mi è piaciuto tantissimo questo fondotinta è molto idratante per quanto mi riguarda l'ho utilizzato un bel po' perché ci troviamo in questa posizione cercherò di utilizzarlo altre volte lo utilizzerò anche quando faccio i video e quindi credo che questo lo tenga avete visto il mio decluttering avete visto quanti fondotinta ho quanti ne devo smaltire e quanti ne ho declatterato scrivete nei commenti se anche voi siete nella stessa situazione e se avete altre proposte per escogitare come utilizzare tutti questi fondotinta per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un vastissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao